Continuano a correre rapidamente sulla spinta delle nuove varianti i contagi da Covid-19. In linea con quanto accade in Campania, a Cava dei Tirreni, secondo l'ultimo aggiornamento diramato dal Dipartimento di Prevenzione, Unità Epidemiologiche e dall'Unità di Crisi della Regione Campania, i soggetti attualmente positivi al Covid risultano 1.345 rispetto ai 1.117 della scorsa settimana, mentre i guariti registrati nell'ultimo periodo sono 865. È salito invece a 6 il numero dei cittadini cavesi ospedalizzati, mentre restano 78 i deceduti con Covid. Intanto è ripartita in maniera decisa la macchina della campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose. Nello specifico, il secondo booster è raccomandato in questa fase ai soggetti di età superiore ai 60 anni e in generale a tutte le persone dai 12 anni in su con condizioni preesistenti di fragilità. Va tuttavia somministrata alle categorie destinatarie, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 4 mesi dalla prima dose booster o dall'ultima infezione successiva al richiamo. Per quanto riguarda la città metelliana, il distretto sanitario 63 ha comunicato che il centro vaccinale di Santa Lucia sarà aperto mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, mentre sarà possibile prenotare la vaccinazione lunedì dalle 15 alle 19, recandosi direttamente al centro. A fare un punto della situazione del Salernitano, invece, è stato il responsabile Covid dell'Asl Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi. Potenziamo le attività dei centri vaccinali per l'allargamento della platea dei vaccinanti delle quarte dosi anche alle persone over 60, cioè tutti quelli che hanno più di 60 anni a salire, prima si poteva fare solo gli over 80 a salire, prima si poteva fare ai fragili over 60 a salire, adesso si riapre a tutti i fragili da 12 anni a salire, da 12 a 18 col vaccino Pfizer, da 18 a salire sia con Pfizer che Moderna. Questa nuova platea ci mette anche in condizioni di poter offrire una maggiore offerta vaccinale perché è necessario che si allarghi la difesa immunitaria considerando che siamo in piena pandemia come distribuzione del virus. Giriamo ormai costantemente intorno al 30% di tamponi positivi tra tutti i tamponi effettuati, senza considerare la quota di tamponi non registrati. Questo ci dice che noi dobbiamo aumentare la protezione alla popolazione. Abbiamo più strumenti per fare tutto questo, abbiamo questa offerta vaccinale allargata, chi sono le persone che si possono vaccinare e quante sono potenzialmente queste persone? Sono circa 230 mila persone, non tutte le 230 mila verranno a farsi vaccinare, però se almeno la metà di queste persone si vengono vaccinate noi abbiamo alzato una bella barriera alla diffusione, alla circolazione ulteriore, ma principalmente, questo non è l'aspetto più importante, l'aspetto più importante è che con questo rinforzo vaccinale del secondo booster, come si dice, metteremo le persone in condizioni di maggior sicurezza, cioè di reggere meglio anche un'eventuale infezione.